Ci sono andati dei nove. Salve di Volo, sette. Fuci Lombardi, uno. La Russia, quattro due. C'è Battagli, quattro. La Battagli, due. E Rosetti, quattro. C'è un po' di spazio, stavolta. Questa è la forza che vada. Adesso. Non lo possiamo guidare. Ti vado dritto. Prenditi qui. Ditto da qui. Tu sei te. 표. Punta. Tu sei te. Non è noti. Ma che cos'è il mio parlante? Ma è tutta duppo cosa. Ah... E tu sei... Ah, è l'uno d'orso? Ah, è l'uno d'orso? Ah, è l'uno d'orso? Ah, è l'uno d'orso? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.